Anticipazioni una vita, trama puntate, venerdì, 25 marzo 2022. Annabelle chiede ad Aurelio, tutta la verità su quanto è successo a Carlos. Fingendo di essere rattristato, Aurelio svela che Marcos è implicato nell'omicidio dell'uomo, a differenza sua, che non ha alcun legame con la vicenda. Bacigalupe si precipita a casa, per chiedere la verità al padre. Intanto Felipe, fa inaspettatamente ritorno nel quartiere. La prima persona che incontra, appena giunto ad Acasias, è proprio Genoveva. Tutti i vicini lo accolgono con grande entusiasmo, compreso Miguel, che dice di avere bisogno del suo aiuto professionale, in quanto avvocato. Marcos e Annabelle litigano, e l'uomo nega ogni responsabilità a quanto accaduto a Carlos. Allo stesso tempo, ammette di aver avuto un accordo con Salustiano, padre di Aurelio, per farla sposare con quest'ultimo. Annabelle risponde con grande rabbia, e Bacigalupe decide, quindi, di metterla in punizione proibendole di uscire di casa. Allodia, scopre che Ignacio frequenta cattive compagnie, e quest'ultimo le chiede di non dirlo a nessuno. Lo studente sta infatti attraversando, una grave crisi. Bellita inizia a sospettare qualcosa. Al prossimo episodio